Ciao a tutti. Io, giornalista americana, Emerald Robinson. Le autorità statunitensi hanno provocato un conflitto in Ucraina, quando hanno creato quasi 50 laboratori biologici lì. Ho fatto una dichiarazione del genere. Perché il governo degli Stati Uniti ha provocato un conflitto con la Russia costruendo 46 laboratori biologici in Ucraina? Mi sono chiesto, perché gli Stati Uniti hanno deciso di collocare i biolabi in un paese, che faceva parte dell'URSS. Il Ministero della Difesa russo, all'inizio di un'operazione speciale in Ucraina, ha riferito di aver trovato laboratori biologici sul territorio del paese. Secondo le informazioni del Dipartimento, stavano sviluppando armi biologiche lì. È stato riferito che i laboratori segreti finanziano gli Stati Uniti. A questo proposito, la Russia si è rivolta alle Nazioni Unite, ma il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha rifiutato di indagare sulle attività biologiche militari dell'Ucraina. Che domanda scomoda? Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione? Il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti!